La Dea mi manda in paradiso, mi manda in paradiso, mi manda in paradiso, tre gol ad Anfield, tre gol ad Anfield, tre gol, tre gol. Ma cosa si può desiderare di più, cosa si può desiderare di meglio? La Dea ti entra nelle ossa, ti entra nelle ossa, signori miei, mamma mia, la classica squadra che ti rende orgoglioso per le proprie origini, non c'è nulla da fare perché ogni volta, no, a me piace sempre partire da dove tutto ha inizio, no, da sta squadra che ballava tra Serie P, Serie A, Serie B, Serie A e ha fatto un passo, no, uno switch, chiamatelo, come cavolo vi pare? Forse sono anche un po' con i postumi da sbornia perché ho fatto serata con amici e mi è toccato guardar Milan-Roma ma vi dico che è un sacrilegio. Quando gioca la Dea è un sacrilegio a metterla lì in disparte ed è giusto che ti castigli sul campo, deve essere così, è il bello, no, è il bello, è il, mamma mia, 3 a 0 ad Anfield, 3 a 0 ad Anfield. Ed è anche vero che poi il Liverpool ha avuto le sue occasioni che poi vai a Anfield e qualcosa non devi concedere, è ovvio, è normale, ma vi dico che da quello che ho visto, no, ne ha fatti 3 la talata, ma ne avesse segnato il doppio, non avrebbe rubato nulla, ragazzi miei, solo nel primo tempo, 3 occasioni clamorose, cioè pronti via, chi? De Ketelare? Un rigore in movimento, anzi di più, prima di chiudere la partita, chi era? Kupeminer, si importa solo, tu per tu, altri due rigori in movimento, poi nel secondo tempo ne ha voluto un'altra. Ragazzi, ragazzi, sono invisibili, sono invisibili, ragazzi, quello che ha fatto stasera l'Adea è qualcosa di clamoroso, ma ce l'ha già fatto vedere in Europa, cioè ce l'ha già fatto vedere, no? Vi ricordate contro i Valenzi, vi ricordate anche contro lo stesso Paris Saint Germain e si sta ripetendo in Europa League e che ben venga che un'italiana, cavolo, arrivi in fondo e alzi sta benedetta, coppa! Che diamine! Se lo voglio! Ma calma, ma calma perché, calma, mai dar per vinta quella squadra inglese là che ha comunque in Inghilterra le mie simpatie, no? Io sono filo, filo Rez, diciamo così, quando seguo la Premier, quindi stiamo calmini perché come abbiamo visto anche stasera, no? Le armi a disposizione ci sono, Darwin Nunes che ha avuto delle chance, Elliot che prende palo traversa, è lo stesso Salah Murato, ci sono... Ha le sue armi senza ombra di lupio, come ho detto prima, no? Gioco contro il Liverpool, ma l'Atalanta nell'atteggiamento, nell'atteggiamento ragazzi, l'ha vinta, magari lascia il possesso e il gioco al Liverpool, ma nell'aggressione, nel pressing, vedi il terzo gol, sei a 2-0 contro il Liverpool, ma non è che ti butti dietro e aspettiamo, no? E magari chiudiamo gli spazi e vediamo un pochettino, no? Aggressiva, no? Riaggressione e così rubi la palla e Scamacca su tutti i ragazzi è meritevole dimensione perché Scamacca è un po' l'emblema della Dea, no? E' quel giocatore che in alcune partite anche va un po' a vuoto, no? Così come la stessa Atalanta che magari non è sempre brillantissima, ma quando lo è sottolori, altro che dentista, come disse un noto allenatore chiamato Pep, altro che dentista, veramente ti fa la devitalizzazione, te la fa completa, con tanto di anestesia, questa squadra qua, mamma, mamma mia, che ha fatto stasera Scamacca? Scamacca ha segnato il primo gol di destro, complice anche il portiere Keller, senza ombra di dubbio, per il secondo è un bellissimo gol, se arriva quella palla e Scamacca te la impatta benissimo di sinistro, da grande attacca, l'attaccante questo è, l'attaccante questo è, arriva sta palla in aria, che sia dentro, che sia sinistro, ci va l'impatto e poi becco la porta, questo è, e che ben venga Scamacca, cavolo, che ne abbiamo bisogno di uno come Scamacca, ne abbiamo bisogno, non di come il palla, di più, di più, di più, di più, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, però ci sono 90 minuti, stiamo, stiamo calmini, e attenzione, non voglio nominar Scamacca solo per i gol, eh, anche il terzo è suo, il terzo, quello che fa la dev, è suo, eh, anche il terzo è suo, con tanto di palla recuperata e poi con i tempi giusti la dà Ederson, Keller ribatte e segna di tapin Pasaric, ma anche il terzo è di quel signore altino, anche il terzo, quindi ribadisco, tanta, tanta, tanta roba, e complimenti a Gasp, complimenti a Gasp, che ragazzi da anni lo si valuta solo per i trofei in bacheca, quando ribadisco, valutiamo da dove è partita, da una squadra che un decennio fa era tra B e SRA, e invece adesso non solo si attesta, no, tra la, nella fascia sinistra della classifica, nella parte sinistra della classifica, nella parte, nella parte medio, alta, eh, della parte sinistra della classifica, ma anche in Europa, dice, dice la sua, togliendosi innumerevoli soddisfazioni, perché vada come vada, eh, ad Anfield, ad Anfield, a vincerci due volte, l'Atalanta è diventata la terza squadra capace di vincere almeno due volte in casa del Liverpool nelle competizioni europee, è caduto di nuovo, eh, dopo Barcellona e Real Madrid, cioè, siamo veramente, come dice Opta, siamo veramente nell'Olimpo, sono delle, delle serate memorabili che rimangono, che, che restano, che sono indelebili, quindi c'è poco da fare, e voglio andare a riprendere anche, anche, le dichiarazioni di, di, di Klopp, che prima della partita è detto, della Serie A, della Serie A e dell'Italia, l'unica cosa che conosco è il cibo, ecco, forse, forse da stasera ha preso anche altro, ecco, ha un po' una cultura generale più ampia, diciamo, diciamo così, tanta, 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 tanta roba, calma, 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 l'altra menzione, bisogna farla sulla Fiorentina, ho visto soprattutto il primo tempo, poi ha pizzi e boccone, come si dice, anche il secondo, ma è una cara che, in realtà, ha offerto molto, molto poco, un tiro in porta per il Vittoria Pilsen, due per la Fiorentina, veramente poche, pochissime emozioni, con, come si chiama, no, Vavro, chi è l'attaccante, che, che ha avuto l'occasione, che, tra l'altro, è una conoscenza italiana, perché ci ha giocato in, in Italia, vediamo se, se lo riesco a beccare, certo che lo becco, lo becco e come, come si chiama, come si chiama, come si chiama, formazioni, Vidra, no, Vavro, Vavro è un altro, cioè, Vidra, che ha avuto l'unica occasione importante, se vogliamo, nel, nel primo tempo, non ha centrato la porta, ma, lo ricordo soprattutto perché, anche in, anche in difesa, è andato un paio di volte a murare a Belotte, per esempio, cioè, ha fatto una, una fase difensiva certosina, eh, vittoria, ed è stata una partita, ripeto, all'insegna del, dell'attenzione, diciamo, di non, di non scoprirsi, la Fiorentina ci ha provato, ma anche la Fiorentina ha avuto veramente poco, ricordo nel primo tempo un'occasione di, un'occasione, quella palla buttata in mezzo con Belotti, che non riesce a dare forza al colpo di testa, nel secondo, il tiro angolatino, da posizione un po' laterale di, di Beltran, aveva poco angolo qualche palla buttata in mezzo a Nico Gonzalez, ma, davvero poco, ed è un pari, che alla Fiorentina, no, in territorio straniero può andare bene, perché poi, in casa, sarà, sarà senza ombra di dubbio un'altra gara, per cui, uscire in denne, senza subire gol con un pareggio, va bene, cioè, va bene, non è un risultato perfetto, assolutamente no, non è un 3 a 0, un 0 a 3 ma poco importa, ecco, senza, senza ombra di dubbio, perché ha dalla sua la possibilità di giocarsela in casa con la Fiorentina, secondo me, decente il turno, lo si può passare, quindi, serata che per le italiane tranne che per il Milan, è assolutamente goduriosa, e quando è così, io vado a nanna felice e voi? Fatemelo sapere sotto, nei commenti, un grande abbraccio, Taneschio Ciao